Chiara Trulli è la nuova sindaca del comune di Spoltore, una vittoria schiacciante per la verità che era stata anche un po' annunciata e preventivata nell'aria data l'alta percentuale di preferenze riportate. Chiara Trulli è stata sostenuta da una coalizione composta da quattro liste PD, Insieme, Sinistra Civica e Movimento 5 Stelle. Allora, intanto, congratulazioni per questa schiacciante vittoria da vice sindaca a sindaca. Cosa cambierà? Intanto la ringrazio, la ringrazio per i complimenti, siamo molto felici. Per quanto riguarda l'impegno sicuramente si rafforzerà ulteriormente, ma io sono stata sempre una presenza costante in questi dieci anni. Prima da assessore, tra l'altro il primo assessore donna della storia della nostra municipalità e poi da vice sindaco, anche lì il primo vice sindaco donna. E adesso, ecco, i cittadini mi onorano di questo ruolo importante che sento tutto sulle mie spalle perché avere, diciamo, una forza come quella che mi hanno dato di un consenso così ampio è un grande atto di fiducia e di amore che è assolutamente reciproco e che quindi mi porterà a lavorare con ancora maggiore forza e vigore per la nostra città. PD e Movimento 5 Stelle uniti hanno in questo caso ripetuto una felice esperienza, fortunata anche in altre amministrazioni comunali nelle precedenti elezioni, ma la ricetta vincente qual è stato il segreto? Beh, sicuramente aver costruito in questi anni una politica di prossimità con la gente. Questo ha un po' anche caratterizzato l'amministrazione di Lorito e la mia persona. È sempre, diciamo, disponibile e accogliente nei confronti dei bisogni piccoli e grandi dei cittadini e l'amministrazione che voglio costruire dovrà avere la stessa connotazione, dovrà essere vicina alla gente. C'è una grande sfida da affrontare che è quella della nuova Pescara, Spoltore insieme a Montesilvano e Pescara appunto costituiranno questa grande area metropolitana pescarese. Quale sarà il ruolo di Spoltore? Tenendo presente che c'è questa data del 1 gennaio 2023 in cui effettivamente dovrebbe partire questo iter di fusione, quindi in qualche modo rischia di essere sindaco per pochi mesi? Sì, purtroppo se non ci sarà un rinvio della data di costituzione della nuova Pescara la scadenza è molto vicina e questo ci preoccupa perché noi non vogliamo arrivare a una fusione a freddo che potrebbe portare un documento alla nostra città ma vogliamo arrivarci con un processo di graduale messa a sistema dei servizi e quindi governare la fusione con un ruolo da protagonista per la mia città.